Noi ci prepariamo allo svelamento di lupo. Abbiamo fatto tante ipotesi, abbiamo detto, scusate, ecco, prendo anche un microfono, abbiamo parlato del suo accento, abbiamo parlato di ipotesi di vari cantanti. E siamo adesso pronti a farvi capire di chi si tratti. Lui ha duettato con Anna Tatangelo stasera e ci ha incantato con una serie di performance, una più bella dell'altra. I bambini lo amano molto, ma anche gli adulti, le famiglie, tutti lo amano perché il lupo è il lupo. Secondo una teoria del maestro Insidna è un lupo romano. Chi lo sa? Chi lo sa? Staremo a vedere. Credo che siamo quasi pronti per andare a svelare il nostro personaggio. Lo siamo? Eccoci. Allora rimani di spalle lupo, rimani di spalle, prego bodyguard. E' il momento di scoprire chi si nasconda dietro questa maschera. E lo scopriremo in cinque, quattro, tre, due, uno. Lupo, voltati, piano, piano. E adesso, dormiti la maschera lupo. Vai lupo! E vediamo chi c'è sotto questa maschera. C'è... E' Max Giusti! E' Max Giusti! Che gioia! Grande Max! Grazie! Costantino! Costantino! Bravo, bravo! Allora un grandissimo gladiatore.